Una crescita non altissima, ma che ha una certa solidità e quindi direi che è una prima piccola ripresa, però l'Italia ha ancora grosse difficoltà strutturali. Vedo l'economia altottesina che sull'export sta andando meglio. Abbiamo ovviamente un bilancio provinciale che adesso è costante, ma è calato negli anni passati e quindi abbiamo cercato di ridurre le imposte alle imprese per lasciare direttamente respiro alle imprese. Doviamo continuare su questa strada qui e rendere più efficace anche tutto l'apparato pubblico, più efficiente l'apparato pubblico. Lì forse potremmo tenere delle sorprese in aumento rispetto alla crescita.